Con mister Marco Bonura in questo dopogara di Follonica-Gavorrano-Scandicci 1-0 un risultato ottenuto con la voglia di farlo, però insomma con un po' di sofferenza nel secondo tempo. Sì, hai detto bene, c'è stata tanta voglia di portare questo risultato a casa che era importantissimo. Nell'intervallo io l'ho detto che sarebbe stata dura fino alla fine e lo è stato. Quindi i ragazzi sono stati bravi, ha vinto questo tipo di partita sporca, la chiamo sporca perché chiaramente non è stata una bella partita effettivamente. Potevamo e dobbiamo far meglio, ma questo può capitare durante l'arco di un campionato. Quindi dico sempre ragazzi, qualche partita di questo tipo bisogna vincere perché non sempre riesci a giocare bene, anche perché c'è un avversario che ti può mettere in difficoltà. Al di là che dopo se analizziamo veramente le occasioni, noi le abbiamo avute più limpie di loro. Quindi le occasioni noi le abbiamo avute, soprattutto con Mugello al secondo tempo, anche al primo tempo siamo partiti bene, secondo me. Dopo il gol ci siamo un po' abbassati, loro hanno preso un po' campo. Nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà con queste palle sopra, con Bani che è spizzicato tra i quattro palle dentro l'aria, dove sono stati bravi a fare le coperture. Però ripeto, è una partita difficile, lo sapevamo, però l'importante oggi era portare a casa questo risultato. Scandicci che è sembrato uscire fuori, soprattutto dopo la rete annullata, ci ha creduto. Fisicamente sembravano più in palla rispetto al Follonica-Gavorrano. L'impressione era quella che ho ricevuto anch'io, però probabilmente lo era. Allora, non è che spendevano tante energie, perché loro magari eravano lì a metà campo, buttavano su la palla, dove Bani chiaramente gli faceva reparto, davanti spizzicava le palle e quindi non riuscivamo a gestire anche queste seconde palle, che loro erano bravi, le hanno prese diverse loro e quindi a ripartire abbiamo fatto fatica. Quindi diciamo che la partita è stata dura, il campo era un po' pesante, qualcuno che magari poteva essere stanco nei miei giocatori, perché chiaramente qualcuno sta giocando 90 minuti spesso e volentieri. Adesso mercoledì rigiochiamo, dobbiamo assolutamente recuperare un po' di energie, perché ripeto, da qua alla fine, fino al 22, abbiamo altre quattro partite, a cominciare da oggi, che era la quinta, dove bisogna cercare, anche nella sofferenza, di portare a casa il risultato. Grazie mille. A voi.